Hai sentito la voce che hanno messo in giro? No? Vieni qua Vieni Avvicinati Te lo dico io No 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 ok Troppo vicino Troppo vicino È uscito Finalmente Il mio quarto libro Kendal La prima avventura Si torna indietro nel tempo Flashback di quando eravamo tutti quanti bambini E vi raccontiamo di come siamo diventati amici E delle peripezie che abbiamo dovuto affrontare Lo potete già preordinare su Amazon Il link lo troverete qua sotto in descrizione Oppure cercando Kendal la prima avventura E uscirà in tutte le librerie il 24 settembre Mi raccomando ragazzi Approfittatene perché lo scorso anno il libro è andato a ruba È andato sold out Quindi non pensateci troppo Anche perché chi lo preordina Riceverà una piccola sorpresina Ma di questo ve ne parlo nei prossimi giorni Intanto preordinate il libro su Amazon Fidatevi Ne vale la pena Ciao vi lascio al video Basta è finito lo spot puoi andare Ti ho detto puoi andare è finito Vabbè Sei ancora qui Ma bentornati miei cari ragazzi In un nuovissimo e fantastico e incredibile Video di Supermarket Simulator Sono pronto a vendere centinaia e centinaia di chili di pasta Allora ci eravamo lasciati col supermercato a livello 51 Piuttosto fornito perché sembrerebbe che ci sia praticamente tutto E con la bellezza di 8000 dollari Che pochi non sono In realtà sono tantissimi Però prima devo pagare innanzitutto tutti quanti Tutti i debiti, le fatture, tutte le cose che devo pagare Dopodiché mi avete detto che se voglio sbloccare dei nuovi prodotti Da mettere negli scaffali Quindi questi qua e non nei frigoriferi Mi conviene sbloccare gli alcolici O comunque Sì, gli alcolici Eh però non posso Non ho ancora i livelli giusti Queste sono bibite e basta Quindi andranno in frigo immagino Eh vedete perché i primi alcolici si sbloccono a livello 56 E costeranno 12.000 dollari Ma siete pazzi Ma siete fuori di testa Fuori de melone Fuori de cavesa Non esiste Allora Compriamo due di tutto Così da rifornire per bene ogni singolo scaffale I soldi li abbiamo I debiti li abbiamo pagati Mettiamoci all'opera Anche perché quest'oggi vorrei provare a ingrandire il supermercato Di altri 4 metri quadri Non è tantissimo Costerà tantissimo Ma immagino che sarà anche piuttosto utile Perché lo spazio inizia a scarseggiare qua Qua nelle catene di Kendall Store Non riesco a trovare il bastoncino di granchio Com'è possibile? Non ci sono i bastoncini di granchio Maledizione Compriamo subito i bastoncini di granchio Se no lui non vive eh Bastoncini Eccoli vai Ne prendiamo Ne prendo 10 Maledetti ingrati che non siete altro Sempre a lamentarsi Mai una volta che dici Bravo Kendall Sei stato un ottimo gestore di supermercato quest'oggi No Non c'è una volta che mi viene fatto un complimento Se non da voi Bravi Voi continuate a farmeli Mi raccomando Così mi fate stare meglio E soprattutto lasciate mi piace Vai 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 Prima che chiudano le casse Si stanno per fare le 9 di sera Compra tutto Comunque ormai ragazzi Siamo in profitto totale Nulla ci può più mandare in bancarotta Spero Non è detto in realtà Non è detto Degli acquisti impulsivi Potrebbero Do altre patate Altre pizze Vai 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 Ora prendiamo i vari sushi La carne Ammazza 1800 dollari È una bastonata ogni volta a comprare gli sushi Per fortuna che io ci faccio un bel rincaro sopra E ci guadagno molto Vai di prosciutti Ok Eh Mi restano 2000 dollari Ma in cosa li ho spesi? Oh santo cielo Beh effettivamente forse ho esagerato con la spesa Mi stai mandando al manicomio signora Allora dobbiamo sicuramente aspettare che si faccia il giorno dopo E mi servono 6700 dollaroni profumati Facciamo così Mi metto a dare una mano ai piccoli Gianfilippi Ma guarda il reparto frigo in realtà è sempre pieno e ben fornito Non mancano mai prodotti Guarda là Io direi che per un bel po' possiamo evitare di comprare carne e sushi Eh sì Siamo belli pieni Sarebbe uno spreco di soldi Quindi soffermiamoci principalmente alle cose che comprano ogni singolo giorno Allora questo dove va? La moussaka? Boh Mettiamola qua Hanno finito i clienti? Sì Ok Chiudiamo Ci vediamo domani Allora c'è di positivo che sono tutti quanti abbastanza soddisfatti Abbassiamo il pre... Anzi alziamo il prezzo della farina Lo zucchero a velo volevo dire Poi la turcocola è aumentata a 2,70 Tutto il resto mi sembra stabile Loro già lavorano Bravissimi Così vi voglio Così magari un giorno vi do anche una promozione Un piccolo bonus Te lo puoi scordare Mamma mia quanti scatoloni Celeri ragazzi Celeri più veloci Questi scatoloni non si portano mica dentro da soli eh E pensare che gli sto pure dando una mano No ecco vedi Ho esagerato con le bibite Ogni volta spreco i soldi in bibite Non ce n'è bisogno Ne ho sempre tantissime Lo stack di bibite è sempre molto più grande rispetto a quelle che comprano Quindi i frigoriferi sono sempre pieni Perché c'è della carta igienica al posto Vabbè un casichino Guarda un delirio Questa è colpa loro Questa è colpa loro Che non sanno organizzare per niente un supermercato Io vi licenzio Vi mando tutti a casa Ovviamente c'ho i doppioni di ogni cosa Perché ho comprato due di ogni prodotto E per alcune cose non c'era bisogno di ricomprarle evidentemente Ma va bene così Allora qua si ci mette dell'altra carne Ok Andiamo Sushi Qualcuno ha ordinato del buonissimo sushi Oddio buonissimo Questo qua in scatolato così Se potete ragazzi evitate di mangiarli Mangiate sempre solo pesce fresco quando avete voglia di sushi Ok la panzati pasta ovviamente è sponsor ufficiale Non può mai mancare Oh uno di questi giorni voglio fare la giornata panzati pasta Dove si può trovare soltanto panzati pasta nel mio supermercato Farebbe straridere Sponsor ufficiale Lo faccio? Oh ci vuole tanto tempo ragazzi Quindi 7000 mi piace a questo video E organizzo il supermercato panzati So già che me ne pentirò So già che me ne pentirò Perché prima gli dovrò far comprare tutto In modo da svuotare tutti quanti i ripiani Perderò tantissimi soldi Perché perderò tanti soldi Però che meme Sarebbe un meme incredibile Oh finalmente un po' di cereali Pizza dal nome discutibile Un altro po' di carne Beh comunque ridendo e scherzando ragazzi Siamo tornati a 3000 dollaroni Ormai i clienti comprano veramente tutto Ok il tonno c'è già E che li ho comprati a fare sti prodotti? Avevo già tutto L'acqua c'è già Maledizione Vuoi fare un update che ti segna le cose che già hai? Sarebbe comodissimo Anziché doverle guardare ad uno ad uno Qua mettiamoci sti bastoncini di granchio Così quello non si lamenta più Oh Cippo cippo Siamo aperti cippo Ehi dove vai? Siamo aperti Dai Vieni a prendere la tua bevanda gasata Dai No c'ha da fare Oh ha cambiato casa? Di nuovo? Cioè si è trasferito da lì a qui Ammazza proprio un cambio dello stile di vita Passare da un civico all'altro Grande cippo Grande cippo Prima o poi vi porterò il vero cippo In un episodio di Supermarket Simulator Farebbe straridere Devo solo convincerlo Aspettiamo un attimino l'inverno Così gli compro un maglione identico Grigio E gli facciamo fare il cosplay Di Cippo Di Supermarket Simulator Tra l'altro Lui sa di essere diventato famoso Quindi un saluto a Cippo nei commenti Ok qua iniziamo a fatturare Benissimo Grande signore Anche lei è nuovo? Non l'avevo mai visto da queste parti Signore Signore è maleducazione Non parlare Signore Non mi passi attraverso la bici Signore Che ci vuoi fare? Certe volte sono così Mamma mia Ma quante bibite ho comprato Devo mettermi un promemoria Di non comprare più bibite O prodotti per il frigorifero Ne ho veramente troppi Cioè non mi dire che tutta sta roba Adesso la stanno lasciando qua in giro Perché sono già pieni gli scaffali eh Non facciamo scherzi Questi si prendono E si mettono in magazzino Allora Qua potremmo fare un altro scaffale del latte Perché ne ho sempre poco di latte C'è del latte qui per terra? Certo che se i miei clienti dovessero venire Vedere tutto sto casino per terra Con i prodotti lanciati così Senza igiene Tutto nel caos Cioè io personalmente me ne andrei Da un supermercato così Ma questi sono degli scemotti E quindi vediamo di rubargli i soldi Oh guarda quante costoline hanno comprato L'avevo appena riempito Ammazza vi piacciono le costoline Mi piace fare il barbecue La farina suprema Certo Non può mai mancare Altro miele Anche questo l'hanno già svuotato Avevo riempito gli scaffali da poco Pure le patatine Siete degli ingordi Ecco cosa siete Degli ingordi Ma possibile fare così tanta spesa? Vabbè Ovviamente io Non mi lamento Sapete cosa sarebbe comodo? Mettere i frigoriferi qua fuori Beh non vedo perché non si potrebbe fare Scusate Come se fossero dei distributori di cibo Le macchinette Magari lo aggiungeranno nel prossimo update Oh un po' di salmone Bene Che questo si vende a caro prezzo E mi fa diventare ricco Oh yeah Allora io direi di non comprare più nulla per un bel po' Perché abbiamo il magazzino veramente pieno 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 di propiste Quindi in teoria quando finiamo i prodotti negli scaffali I giacomini dovrebbero andare in magazzino a prendere e rifornire In teoria Ciò significa che per qualche giorno possiamo anche non fare la spesa E allora tutti questi soldini che avanzeranno Li spenderemo in un restyling È arrivato il momento di ampliare il supermercato Perché il passaggio è veramente scomodo Allora queste sono le ultime costine E direi che per oggi abbiamo fatto tutto Sono già finite le patate Io ve l'ho detto Vanno a ruba Ste cavolo di patate non restano 5 minuti nei miei scaffali E toh facciamo il pieno allora Ah ci avevo oltre 1000 dollari di roba Aspetta aspetta allora Ketchup e maionese sì Macinato sì Lasagne no Togliamo Tutta questa roba la devo comprare domani Assolutamente sì Dai 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 Diamoci una mossa cosa che non trova Le lasagne Ok certo Le ho tolte due secondi fa Rimettiamole Lui non trova il ketchup Eh sì effettivamente ketchup e maionese Nisba Tabula rasa Totalmente andati E ci serve anche il pollo Quindi prendiamo il pollo surgelato Mazza che muscoli signor Vorrei averlo io sto bicipite d'acciaio Oh crocchette di pollo e sprite La cena dei campioni Non trova sacchetto di patate Ok sono usciti tutti Chiudiamo la giornata Giorno 148 45 clienti soddisfatti Io sinceramente sono felice Profitto Bilancio positivo E che vuoi di più Burro di arachidi Si è abbassato di prezzo Panza di pasta è aumentata di prezzo Ha ha E adesso si ride perché lo sponsor ufficiale mi pagherà di più 3 euro e 60 Non è un po' tanto per delle penne gialle fluo chimiche Forse è un po' tanto Allora questo è giusto Cos'è che si è abbassato? Il prosciutto c'era scritto Quale prosciutto però? Qua ne abbiamo un bel po' di prosciutto Prosciutto un prosciutto un Boh Vabbè Lasciamo perdere Allora facciamo la spesa Compriamo le cose che avevo già messo nel carrello Tra cui chili e chili di patate che dovremmo mettere adesso negli scaffali Visto che sembra essere il piatto preferito in questa città 8 patatone giganti Oh vai così Riempi gli scaffali Non facciamo i pulciari Pa 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 E al resto pensate a tutto voi Dai che le patate le abbiamo Ora la mayo Che a me personalmente non piace Ma come fanno? Certe volte non mi danno neanche il tempo che hanno già sistemato tutto A volte sono lenti come delle lumache Altre volte sono Spidi Gonzales Oh qua abbiamo sta schifezza qui Che non ho ben capito cos'è Sto pasticcio di immagino prosciutto e formaggio Boh però è veramente brutto dall'aspetto Ma mai giudicare un libro dalla copertina miei cari ragazzi Apriamo anche oggi E ragazzi è arrivato il momento di spendere sti soldi Spendiamolo di sti quattrini Allora paghiamo i debiti rimasti Proprio quelli più vicini in assoluto Così poi per due giorni possiamo respirare un attimo Fatture Paghiamo queste Ok Ora gli lasciamo comprare 2-3 mila euro di roba E dopodiché ingigantiremo il nostro supermercato Tecnicamente tutto questo muro qua sparisce E si spinge in là Così avremo più spazio per mettere più scaffali E possibilmente anche più freezer Che qua sono un po' in mezzo alle scatole Eh sì 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 It's time It's time È tempo di spendere sti quattrini Forza signori abbiamo delle promozioni vantaggiose Andate Prego prego Voi due che siete identici Avete soltanto un vestito diverso Chissà se con il nuovo aggiornamento posso fare quel salto Aspettate ci voglio provare Vai Ok Sono al secondo piano No Voglio arrivare Voglio arrivare in cima No Vorrei arrivare sul tetto Sarebbe fighissimo baggarsi Niente Purtroppo non si può ancora Direi che ci abbiamo tutto no? Siamo super forniti Qua Perché c'è questo anziché il Pablo Ehi 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 Prendiamo subito Pablo Zucchero Avuelo Vai che se no si lamentano e piangono Non riesco a trovare zucchero a velo E la torta te la farai domani caro Billy Te la farai domani Non è un bene di prima necessità lo zucchero a velo Importante che c'hai la pasta Ok qua sono finiti i prodotti per la casa Compriamoli subito allora Sapone Candeggina Pipipipi Piripipi Piripopi Popopopo Prendiamo adesso un bel po' di carta igienica Allora mi servono le pastiglie per la lavastoviglie Dove sono? Eccole Perché loro le hanno messe in uno scaffale sbagliato Eh vabbè a sto punto le mettiamo anche qua dai Tanto vanno a ruba ragazzi Vanno a ruba Assieme qua alla carta igienica Li vendo in due secondi Bene Non ci resta che aspettare di fare dei soldoni Ci vediamo dopo Oh guardate un po' Chi è venuto a farci compagnia Ciao cheddar Ciao Ha detto che anche lui saprebbe gestire meglio di me un supermercato Soprattutto panzati pasta Cedda Puoi stare qui Se stai qui buono buono Giochiamo insieme Allora come vedete è notte E abbiamo una bellezza di 10.000 dollaroni Quindi domattina si faranno delle spese folli Olio d'oliva Ok aumentato di prezzo Olio Olio e cereali aumentati 5.85 Olio 4.80 Olio, olio e cereali Quali erano i cereali però? Questi 5.70 Molto bene ragazzi È arrivato il momento Di sviluppare il nostro supermercato Spendendo quasi 7.000 dollari Però Certo ovviamente la parete è gialla Maledetti Potevate fare un piccolo sforzo E ridipingermela Ok va bene Va bene Intanto in questo modo riusciremo a mettere appunto più scaffali Quindi iniziamo a metterli già tutti quanti bene in ordine Questo frigo lo si sposta per il momento E questi frigoriferi li possiamo mettere adesso tutti quanti a schiera Tutti in fila Oh Guardate quanto spazio abbiamo guadagnato Cioè ragazzi Ridendo e scherzando Un bel po' Adesso lo si mette qua Volendo qua potremmo comprare già un doppio frigo Avrebbe più senso probabilmente Però Oh Ora mi posso muovere E soprattutto qua possiamo fare un'altra fila di scaffali Possibilmente Allora Per adesso direi di mettere in ordine questi Visto che ora lo spazio c'è Sti freezer li mettiamo Messi per bene Ah Sono felicissimo ragazzi Mi triggeravano tantissimo Però questi sono troppo attaccati Quindi questi qua adesso li spostiamo un po' Vediamo qualche centimetro di distacco Boom Precisi Ma sai che c'è Mi sento pazzerello Spostiamoli un po' più in qua Dai Così c'è più spazio per muoversi Tanto adesso di spazio ne abbiamo veramente da vendere Del resto l'ho pagato caro 7000 dollari per aumentare 4 metri quadri Allora adesso sarà fondamentale intanto ridipingere Dobbiamo assolutamente pitturare quella parte di parete gialla E cambiare anche il parquet Ma prima di tutto apriamo Quindi era tintura nera Se non mi ricordo male Quindi immagino questa E per quanto riguarda il parquet era questo qua l'ultimo Giusto? Sì era questo Era questo Quindi vai di parquet Oh bellissimo Vai 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 Scatola vuota Ma non ci ho fatto niente C'è cinque strati ho messo Maledetto Maledetto Quanto ti costa allargare le cose Ok sistemiamo adesso il muro Poi devo capire cosa metterci in questo spazietto eh O vendo i mini frighi E metto un frigo grande doppio Oh ti prego Guarda se si scarica all'ultimo mi arrabbio Ok meno male preciso Oh guarda che bello Quanto spazio abbiamo adesso Niente felicissimo Sono felicissimo Prendiamo un altro pavimento I prodotti sono già tutti in vendita Al prezzo giusto Oh e che vuoi di più della vita? Cosa abbiamo finito qua? Riso e spaghetti Riso, spaghetti e caffè Che problema c'è? Costano poco Compriamoli Caffè Quattro Riso Tre Spaghetti Tre E via con lo shopping Crepi la varizia La pasta l'abbiamo Questo è tutto pieno Questo è tutto pieno No manca il parmigiano reggiano Ok E allora ne prendiamo quattro Che dici cheddar? Vanno bene quattro? Vanno bene Cosa c'è? Non vanno bene? Devo prenderne di più? Hai ragione Devo prenderne di più effettivamente Ne servono cinque Eh ha ragione Ha ragione lui Fa ridere il primo episodio con cheddar Prima volta che lo vedete nel mio canale E voilà Allora tutto sommato siamo ancora in positivo I debiti li abbiamo quasi pagati Di prodotti ne abbiamo a valanghe Proprio da vendere Sai che c'è forse? No qua ci devo mettere per forza un altro piccolo Uno grande non ci sta Va bene così Va bene così Abbiamo tantissima roba da vendere Devo riuscire a riempire questi scaffali con prodotti extra Ma non so bene cosa mettere in realtà Ma direi che per il momento possiamo anche lasciarli fare un po' di shopping Prego Divertitevi nel mio nuovo supermercato Et voilà Ah si torna a far fruttare i danari 6.300 dollari dopo averne spesi 7.000 Mica male ragazzi Mica male Ah certo devo mettere delle luci là sotto adesso Aspetta che me lo devo ricordare Prendiamo un punto luce Così domattina lo possiamo mettere Allora facciamo un check dell'inventario Abbiamo finito tutta la farina Che ci fanno questi qua? Vabbè non importa Poi altri cereali sono finiti Ok Olio e latte Tanto latte Prodotti per la casa siamo ancora messi bene Frigoriferi direi che sono piuttosto pieni I freezer I freezer sono vuoti E anche tutti i prodotti al prosciutto nuovi E la panzati pasta ovviamente è andata a ruba Chi è lo scemo che ne ha lasciato un pacco qua? Già che c'eri troppo tipigliano? E dai figlio mio Ok Allora abbiamo speso tanti soldi ma abbiamo fatto un buon bilancio Intanto alcuni prodotti sono aumentati di prezzo Come i cereali L'acqua in bottiglia E cos'altro Le torte se non sbaglio E adesso compriamo ciò che manca Quindi abbiamo detto Cerealozzoli Ne prendiamo due di ogni scatola Patate ovviamente mancano sempre quelle Cioccolata manca Più i prodotti da freezer Quindi mettiamo qua freezer E prendiamo due di pollo Patatine Bastoncini Pizza E infine Prendiamo gli ultimi prodotti da frigo che abbiamo comprato Ovvero tutto ciò che riguarda il prosciutto Preciso Ci restano ancora 3000 dollari Così pago i debiti di oggi Paghiamo pure le fatture Voilà Bilancio positivo Supermercato gigante No dove hanno messo il punto luce? Dove mi hanno messo il punto luce che l'avevo comprato? E questo? Sì Supermercato ragazzi gigante Che voglio di più dalla vita? Niente Tutto bello ordinato Con tantissimi frigoriferi Molto 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 bene Apriamo anche la giornata di oggi E ragazzi Sì io spero che questo video vi sia piaciuto Se così è stato mi raccomando Lasciate un mi piace E dal vostro imperatore è tutto Noi ci vediamo molto presto Con un altro video Sayonara